Un giorno significativo, una inaugurazione importante, per una volta Terra Nova non arriva prima, ma nel gruppo è il primo che inauguriamo, però è importante perché nel centro storia di Terra Nova sarà utilizzato tantissimo, c'è una grande aspettativa proprio anche per il ritardo con cui siamo arrivati a questa inaugurazione, però per noi è significativo perché attraverso i fontanelli pubblici si ritorna a un uso corretto e parsimonioso dell'acqua, l'acqua come bene pubblico che sarà sempre più preziosa e verrà sempre più a mancare, per cui attraverso il fontanello un uso pubblico, un punto di ritrovo, un elemento in cui anche i bambini, le famiglie andando a prendere l'acqua per bere alla fonte, al fontanello si ritrova il senso culturale di valore dell'acqua, che è un bene comune per eccellenza e che dunque è un elemento ancorché gratuito da tenere in considerazione per un uso anche domestico parsimonioso.